Terminalizzatore sì, sì, uno per ogni provincia. In Europa i terminalizzatori ultimo modello hanno i parchi giochi per i bambini o le piste da sci in cima ai terminalizzatori perché i toscani pagano più di altri e hanno meno servizi di altri. Quindi questa è un'ideologia della vecchia sinistra che dice no allo sviluppo, al futuro. Su questo, non solo in Toscana ma in tutta Italia, la vicina Emilia e la vicina Lombardia ne hanno 8 e 13 di terminalizzatori e i lombardi ed emiliani pagano di meno rispetto ai toscani.